ti piace questa cucacula? ti piace la cucacula? la cucacula? bombi o passi la cucacula? passi o bombi la cucacula? beh passo passi o bombici di? passo non squisciano neanche non riescono a farsi guarda che schifo madonna passo ma questa pressa non ci dà più delle emozioni forti no? come mai non ci dà più delle emozioni? una batteria guarda come squiscia no non squiscia per un cavolo ecco la pallina che squiscia squish 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 un proiettile guarda